Siamo ad Ortone, incontrata a Tamerete, alle nostre spalle la Ecotec. Ieri sera momenti di paura intorno alle 22, c'è stata un'esplosione e poi si è sviluppato un incendio. Sindaco, cosa è accaduto? Le è venuto ovviamente immediatamente sul posto. Sì, sono stato avvisato intorno alle 22 di questo incendio e mi sono recato subito sul posto dove erano già arrivati i vigili del fuoco e i titolari dell'azienda che si sono attivati insieme in un lavoro di squadra per cercare di spegnere prima possibile le fiamme che si sono divampate in un modo importante, emanando anche una nube tossica che cominciava a dare fastidio. Successivamente poi sono arrivate altre squadre dei vigili del fuoco da Chieti perché era intervenuta solo l'unità di Ortona e le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 5 di questa mattina. Poi lei ha emanato un'ordinanza, una a scopo precauzionale. Ieri sera ho invitato i residenti delle frazioni limitrofe alla zona industriale, quindi Fonte Grande, Tamarete, Villa Deo, Villa Pincione, Villa Grande, Villa Carlone a non utilizzare frutte e ortaggi e a tenere chiuse le finestre. Questa mattina invece sto predisponendo un'ordinanza in cui si invita a fare un uso molto attenzionato appunto di frutte e ortaggi in attesa di conoscere l'esito degli esami dell'Arta che già ieri sera è venuta qui sul posto e che questa mattina tornerà per fare prelevamenti nei terreni appunto circostanti. L'attività dell'azienda che si occupa di cernita di rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta urbana è ripresa da questa mattina presto. È stato fatto un nuovo sopralluogo dei tecnici dell'Arta. Il direttore Maurizio Dionisio precisa che la prima cosa fatta questa notte è stata quella di verificare che le acque di spegnimento non si disperdessero. Infatti sono state raccolte all'interno del piazzale dove si è verificato l'incendio. Per quanto riguarda l'aria, la grossa nube che si è sviluppata si è dispersa in poco tempo ma la tipologia delle sostanze che hanno preso fuoco e cioè carta, legno ed una parte di PVC secondo l'Arta non avrebbe creato emissioni particolarmente nocive. Ma le verifiche sono ancora in corso.